eccoci Mario Monti è ora iscritto a Facebook pensa te Mario Monti ha cambiato il suo stato se sento ancora una battuta del tipo Mario e Monti o full Monti abbandono il mio profilo istituzionale comincio a dire parolacce anch'io a Umberto Bossi piace questo elemento hai visto? guarda che c'è scritto qua sotto Mario Draghi ha scritto sulla bacheca di Mario Monti grande Super Mario allora quando puoi cambiati la foto di profilo e metti quella del supereroe Nintendo che fa molto spiritoso e a Renzo Bossi piace questo elemento infatti scemo più scemo Mario Monti e Mario Draghi ora non sono più amici attenzione Monti ha aggiunto l'album fotografico Pulizia Palazzo Grazioli guarda che sotto c'è un commento Rubi Rubacuori ha commentato Presidente se dovesse trovare un tanga leopardato può contattarmi il numero lo trova scritto con il rossetto in sala di unione sul muro accanto alla bandiera della Repubblica Scilipoti ha scritto sulla bacheca di Mario Monti lobbista delle banche mercenario lui eh no guarda quante persone piace questo elemento alla Sant'Anchè Gargamella Gasparri e il cattivo del film Titanic piace questo elemento no attenzione questa è una persona seria mi sa Giuliano Amato ha pubblicato un link a YouTube lo spogliarello di Full Monti Mario Monti ha commentato e basta cazzo no proprio così Berlusconi ha citato Mario Monti in uno stato se credono di risolvere i problemi dell'Italia con un tecnico potevano andare dal meccanico ah è sempre ironico il da Boccassini ha commentato Silvio ti chiamo presto e a Mario Monti piace questo elemento guarda chi ha scritto sulla bacheca di Mario Monti Barack Obama ha scritto congratulations mister president finally I can bring my daughters with me in Italy l'avvocato Ghedini piace questo elemento ecco Mario Monti ha cambiato il suo datore di lavoro Repubblica Italiana e Calderone ha commentato non esiste l'Italia e vabbè come sempre Giorgio Napolitano invece ha commentato ho già detto che è la padagna che non esiste sono stato molto esplicito e a Monti piace questo elemento vediamo un po' se ha creato dei gruppi Mario Monti cambia un po' pagina ah ecco vedi ha creato il gruppo abbigliamento intimo da donna smarrito nelle sedi istituzionali del governo contattare la segreteria di Palazzo Chigi a Nicole Minetti altre 546 persone piace questo elemento ma quante ce n'è? Maria Stella Gelmini ha una stretta amicizia con Mario Monti pure lei ha scritto sul suo muro attenzione complimenti per la presidenza della Banca Centrale Europea se le serve un ministro qualsiasi non sono pronta sono pronta eh sì e questa è pronta per tutto Mario Monti ha commentato quello è Mario Draghi signora si sta confondendo comunque grazie ma preferisco gente davvero preparata e a Napolitano piace questo elemento Maria Stella Gelmini e Mario Monti ora non sono più amici l'ha bloccata dici? secondo me è meglio che usciamo se non blocca ma che non riesci esce esce M2O un mondo allo stato puro grazie a tutti